La lana riciclata è stata lavorata per andare a creare degli animaletti molto simpatici dal procione al coiote al coniglio. All'interno non c'è imbottitura ma c'è soltanto della plastica riciclata che crea un effetto sonoro particolare molto attraente per il nostro animale e poi anche in questo caso abbiamo dei nodi, abbiamo delle parti più robuste, delle parti più morbide per avere anche degli effetti sensoriali diversi a seconda di dove verrà preso in in bocca il gioco. Lo squeaker, la coda morbida, la testa e il corpo invece più rumorosi.